Benvenuto, benvenuto in questo video di aggiornamento. In questa serie di video brevissimi cercheremo di guadagnare fino a 50 dollari di EOS, EOS, che significa EOS, una cripto, e stiamo per guadagnare 50 dollari. Nei prossimi video ti dico risposta per risposta come guadagnare in pochissimi minuti, ma adesso ti invito ad utilizzare da questo link, guarda, lo apriamo su una nuova finestra, eccolo, guarda, questo è il link di invito, è un po' strano, però ecco, se ti clicchi su questo link, io ho paura che devi metterti in lista d'attesa, ma io ero circa un mese e mezzo che aspettavo, quindi subito adesso sfrutta questo link, guarda, coinbase.com, slash earn, slash EOS, slash invite, invite, e poi abbi la pazienza di scrivere queste lettere in minuscolo, che è Quindi, sfrutta questo link di invito, non inizierai secondo me subito a guadagnare 50 dollari, ma mettiti in lista d'attesa, se non sei iscritto a Coinbase, penso che sei iscritto, sfrutta quel link che ti metto sotto per 10 dollari in più, e a quel punto, solo a quel punto, mettiti in lista d'attesa. Una volta che ti arriva un email come questa, dov'è? Vediamola qua, vedi, ah no, queste sono le email che vedrai dopo, vedi, ogni volta 2 dollari a botta, fino a 50 dollari, che non è male. Una volta che ti sei messo in lista d'attesa, sfruttando questo link di invito esclusivo che metto a disposizione per te, che cosa fai? Non lo condividere con i tuoi amici questo link, perché? Perché alla fine dei 5 o 6 video che ti farò vedere, dopo che hai guadagnato circa 10 dollari, avrai il tuo link di invito e ti consiglio di darlo ai tuoi amici, così guadagni ulteriori 10 dollari. Quindi, ricapitolando, nella massima trasparenza, utilizza questo mio link per accedere e guadagnare i primi 10 dollari in iOS, poi alla fine questo link non lo condividere con i tuoi amici, usalo solo te, perché alla fine dei 5 video dove ti darò le risposte, la pappa pronta, come si dice, dove ti darò le risposte corrette, guadagnerai 10 dollari in iOS, avrai il tuo link di invito e puoi invitare i tuoi amici, e quindi guadagnerai te, quindi non condividere questo, perché io personalmente, modestamente, non ne ho bisogno, usalo solo per te, per accedere e metterti in vista d'attesa, ok? Ci vediamo nei prossimi video, se sei curioso, guardali subito, ma tieni d'occhio la tua email, io non ti nascondo che ho aspettato un mese e mezzo per guadagnare questi 50 dollari, ma con pazienza e perseveranza, dove è andato? In questo corso, ecco le email, ce ne sono tante, questo corso funziona, e in realtà modificherò il titolo, invece che 169 euro più 50 dollari, abbiamo sorpassato i 200 euro di bonus senza spendere niente, funziona. Quando condividerai il tuo link con i tuoi amici, se sono a digiuno o a zero di cripto, magari se fai entrare loro con questo corso, loro non saranno in grado di capirci niente. Consiglia loro questo corso, Bitcoin, Ethereum e Blockchain, impara qui da zero, dove siamo quasi 200 studenti, le recensioni stanno andando benissimo, l'hanno tutta 5 stelle, 4 stelle e mezzo, quindi mettimi a meno, se lo ritieni opportuno e secondo te l'ho raggiunto 5 stelle, e regala ai tuoi amici dei coupon con scritto 90 special, tutto maiuscolo, dove risparmieranno fino a 190 euro al mese. No, 190 euro una tanto, ma ne creo solo 3 al mese. Quindi, se li fai aggiungere loro al carrello e vedono che scrivendo 90 special nel carrello risparmiano 190 euro, faglielo prendere subito perché sono stati fortunati. Bene, il link di invito per EOS, dove diamine andate, è questo qua, coinbase.com, vedi, barra earn, barra eos, barra invite, le cose vanno guadagnate, vanno sudate, barra tbphgmwc, iscriviti qua, mettiti in lista d'attesa, abbi pazienza, tieni d'occhio le tuonelle e stieni di pronto per guadagnare altri 50, 50 ragazzi dollari. Ci vediamo nel prossimo video, un salutone e ti ringrazio, ciao!